Ancora passi indietro per quel che concerne i lavori dell'autostrada Siracusa-Gela. Per i tre lotti da Rosolini a Modica sono stati disattesi gli impegni. Infatti il COSIG, nonché il Consorzio di Impresa, appaltatore dei lavori, vuole procedere ai licenziamenti. Lo fanno sapere i segretari generali di CGL, Cisle Will di Ragusa, Giuseppe Scifo, Paolo Sanzaro e Giorgio Banniera, in una nota nella quale hanno spiegato lo stato delle cose. A distanza di pochi giorni dall'incontro in prefettura, gli impegni che si erano assunti, COSIG e ANAS, vengono già disattesi. Nonostante infatti lo scorso 19 luglio il CAS e il COSIG si erano impegnati a continuare i lavori e attivare la cassa integrazione, due giorni fa dall'incontro tra COSIG e sindacati è emerso che le aziende vorrebbero licenziare i lavoratori e dunque non firmare la CIG, cassa integrazione e guadagni. Il cantiere dell'autostrada del tratto Rosolini-Modica continua dunque ad essere al centro di forti criticità, a causa dei ritardi nei pagamenti. Come sottoscritto dalla triade sindacale, il licenziamento comporterebbe un problema sul piano occupazionale ed un rischio concreto per l'avanzamento dei lavori e la perdita dei finanziamenti. Licenziare infatti vuol dire che molti perderanno il lavoro, generando il solito divario tra l'esigenza di un'occupazione e le reali possibilità di un lavoro. E non solo, non sarà un fattore positivo per i ritardi e i rimandi nell'avanzamento dei lavori, che continueranno a procedere a passo di lumaca. I segretari generali hanno anche dichiarato che è necessario un lavoro sinergico di istituzioni, regione, nazione e sindacati per portare avanti e completare i lavori e far sì che questa opera non si aggiunga all'annovero dei lavori incompiuti. Per lunedì prossimo infatti è stato indetto un incontro a Pozzallo con sindacati, sindaci e parlamentari per fronteggiare la situazione alla presenza della deputazione regionale e nazionale. La Sicilia ed il territorio ebleo meritano che questa infrastruttura venga completata per provare ad essere al passo degli altri e viaggiare su una stessa strada.